Per voi non è in discussione la scelta dell'unione dei comuni della Presolana, si va avanti in quattro? Assolutamente sì, per noi non è mai stata messa in dubbio questa possibilità, l'abbiamo espresso sin dall'inizio, abbiamo anche fatto delle valutazioni puntuali e con l'aiuto di professionisti, perché ovviamente al di là di quella che è la nostra decisione volevamo essere certi che questo strumento fosse quello giusto ed effettivamente anche queste consulenze hanno portato al risultato che noi ci attendevamo. Quindi l'idea è quella di continuare, la nostra unione ha 20 anni di storia e in 20 anni l'unione non ha solo erogato dei servizi, ma ha fatto sì che il nostro territorio diventasse sinergico, che collaborasse e che crescesse insieme in modo uniforme. Questo secondo noi è un aspetto da non dimenticare, è un aspetto fondamentale, non dimentichiamoci che i nostri sono quattro piccoli comuni. Da soli per noi sarebbe impossibile continuare a derogare servizi di buon livello, come stiamo facendo adesso attraverso lo strumento dell'unione. Un divorzio consensuale con benefici per entrambe le parti? Sì, benefici da entrambe le parti, direi, dal nostro punto di vista anche benefici a livello finanziario, non dimentichiamoci che l'unione è uno strumento che dà diritto ad ottenere dei contributi da Regione Lombardia che per noi sono indispensabili nella gestione dei servizi. E poi con Rovetta il rapporto continua? Continua, assolutamente. Appunto come dicevamo è una separazione consensuale, per cui Rovetta ha espresso la volontà di continuare a convenzionare i servizi con l'unione e da parte nostra non c'è nessun problema nel proseguire nella gestione associata. Per il cittadino non cambierà praticamente nulla, anche se per i dipendenti ci sarà uno spostamento di uffici sulle sedi comunali. Sì esatto, andremo in questa riorganizzazione e rilancio dell'Unione Comunica della Presolana a spostare alcune delle sedi dei servizi convenzionati dall'unione. Questo permetterà di risparmiare anche circa 20.000 euro che è il costo dell'attuale sede dell'Unione. Presso il comune di Fino del Monte ci sarà l'ufficio ragioneria, affari generali e la sede dell'Unione Comuni della Presolana. Presso il comune di Cerete invece avremo i servizi sociali che comunque continueranno a girare in tutti i comuni nel loro orario di ricevimento, anche nel comune di Rovetta perché è un servizio che rimarrà convenzionato e quindi per il cittadino non cambierà assolutamente nulla. Mentre per quanto riguarda l'ufficio tecnico sia di edilizia privata ma anche, e questa sarà una novità a partire dal 2021, per quanto riguarda la gestione del territorio e delle opere pubbliche avrà sede presso il Municipio di Onore. È stato scelto il Municipio di Onore perché è dotato di parcheggio ed è un pochettino più centrale nei confronti degli altri quattro comuni che rimarranno all'interno dell'Unione dei Comuni e di conseguenza questo sarà un attimo il cambiamento a cui andranno incontri i cittadini. La rassicurazione che ci sentiamo di fare ai cittadini è che comunque dal punto di vista del loro rapporto con il Comune e con l'Unione dei Comuni non cambierà praticamente nulla. I servizi rimarranno quelli, i dipendenti rimarranno quelli, semplicemente ci saranno alcuni uffici che non si troveranno più a Rovetta ma nei nostri comuni.